Ma, 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 Massimo Marino, vivi loro e poi ci Oggi a distanza di quattro anni, questa donna fortissima ha avuto il piacere e l'onore in questi mesi anche di frequentare ci siamo incontrati, ci siamo parlati, ha fatto la prima delle iniziative che intende fare per ricordare Massimo è un'iniziativa intima e privata e contemporanea, ha preso i due migliori street artist della scena nazionale e romana che sono solo le timing che sono qui ha realizzato questa cosa molto intima perché è letteralmente sul muro esterno della casa dei nostri due grandi dragatori di Roma mi auguro ovviamente che le foto di questi murali, se noi viviamo in un'epoca comunque instagrammabile tutta a banda larga per cui facciano il giro di Roma, già lo stanno facendo da qualche giorno perché insomma il murale se è stato scoperto non può essere, altrimenti e la risposta era già dentro di noi, cioè nel senso in questa città in cui viene ogni giorno inaugurato un muro che celebra qualcuno di molto famoso, di mainstream diciamo, no? raffigurato sempre nella stessa maniera diciamo che una richiesta del genere di solito a noi ci avrebbe fatto un po' senso avremmo detto tipo, no, forse non è il caso ma lei ci ha chiesto, va del ritratto di Massimo e noi abbiamo detto, come facciamo a dire Massimo? era Massimo, era Massimo, noi siamo impazziti cioè ci siamo guardati e abbiamo detto, sì, lui sì quindi di solito noi non facciamo questo tipo di lavori ma di fronte a un personaggio d'eccezione abbiamo fatto l'eccezione bravi! sì, in realtà quello che ci ha sempre portato un po' a lontani da questo tipo di richieste è il fatto che il nostro stile difficilmente poi viene accettato come idea di ritratto che ha la gente quindi loro vogliono una cosa che poi in gergo noi chiamiamo il santino quindi noi per quello evitiamo di iniziare proprio a interpretare un discorso del genere perché sappiamo che il nostro stile poi non trova riscontro in quello che la gente immagina quando ci chiede un ritratto commemorativo e in questo caso dopo aver accettato abbiamo proposto a Miria la nostra visione che era appunto quella che avete visto sul muro e quella che vedete anche riprodotta lì nel poster e Miria anche in questo è stata così insomma lungimirante da capire che forse questo era uno dei modi giusti per poter rappresentare Massimo quindi farlo come era lui, un po' sopra le righe, colorato come le luci che portava nelle case quando andava in giro e non fare il ritratto iperrealista un po' stucchevole quindi noi abbiamo proposto un po' spacciatamente la nostra visione lei ancora più incosciente di noi ha detto a voglia e quindi insomma il resto è storia burocratica più burocratica che altra però storia come nasce questo ritratto? proprio tecnicamente inconsapevolmente abbiamo scelto una foto cercandola su internet che poi invece ci ha spiegato Miria che gli aveva scattato lei e quindi insomma è stato un match incredibile in più abbiamo detto ok lavoriamo su questa foto ma rendiamola coloratissima, piena di vita cioè nel senso non stiamo qui a fare una cosa troppo malinconica rendiamola un qualcosa che mantenga insomma la sua vita nel tempo e che sia diversa insomma dal solito e insomma credo di poter dire che ci siamo riusciti grazie Massimo aveva questo aspetto rude, questa vitalità forte e se uno conosce Miria vede in Miria un'altra faccia di Massimo ma tanto Massimo parlava a voce alta, tanto Miria parla a bassa voce tanto Massimo era irruento, tanto Miria è delicata però è Massimo Miria quanto lo era Massimo stesso e quindi io non posso che veramente dirvi grazie dire che sono a disposizione per fare tutto quello che si può perché ricordo di Massimo continui e si traduca anche in un passaggio di testimone in qualche modo anche se un altro Massimo Marino non ci sarà mai abbiamo, mi ricordo che lo diceva prima abbiamo nostalgia di Massimo anche perché forse abbiamo nostalgia di una Roma che c'era con Massimo e che oggi non c'è più e che sarebbe bello ritrovare una Roma creativa, di una periferia vitale di un mondo della notte anche molto particolare ma anche molto libero Massimo era un uomo libero così lo voglio ricordare e così spero che lo porteremo insieme a noi del cuore per tanti anni ancora, grazie hanno iniziato prima con i protagonisti della notte Riccardo Modesti che anche lui da qualche anno non c'è più e la notte romana che è sempre meno viva non solo in televisione e in media ma anche proprio nel modo di vivere questa è una città che ha creato molto ma come si crea Roma distrugge è un attimo e Massimo invece prima con la rivista io non ricordo che andava di notte a portare questa rivista ovunque non ricordo che venne a Power Station dove fece Vivi Roma on air ed era un programma assurdo in una radio che era perfetta, con musica perfetta arrivavano loro e dalle 8 alle 9 c'era questa situazione che sembrava quasi fatta apposta nel senso che si sentiva uno stacco completo con quello che era la tecnica ma si sentiva la passione e si vivevano diverse situazioni che all'epoca erano viste male quindi il mondo trans, il mondo gay nel mondo dello spettacolo, della lattenza, dello spugnarello che è sempre stato dal punto di vista delle persone bigotte perché poi alla fine quando puntano al dito il film di Alberto Sordi è storico che c'è lui che è quello che va contro questi locali ma poi è quello che prende i soldi da questo locale quindi Massimo ha sdoganato questa situazione dal punto di vista sia in rivista sia in radio e poi in televisione in televisione ha messo la faccia ed è andato un po' contro tutti e contro tutti perché quando lui andava in trasmissione era vero molti vanno in televisione e sono finti si creano il loro personaggio lui era proprio così e questo è lo spirito del divertimento essere creativi ma soprattutto se stessi e lui con Vive Roma ha creato una grande pagina per la notte e ha lasciato una grossa un grosso luogo perché i personaggi come lui hanno lottato per questo e ci è riuscito per un momento ci siamo riusciti per un momento ma purtroppo adesso la situazione è quella che è la notte a Roma è finita e questo secondo me Massimo ci sta guardando da lassù e dice a chi può fare qualcosa di non mollare e di continuare a credere nel mondo della notte grazie difficile no tu ce lo devi raccontare fare quel murale arrivare a quell'opera non voglio sporcare questo momento no no però ce lo devi dire è stata una cosa a uno di sé stavo per gettare la spugna però poi pure grazie a loro perché se mi abbandonavano loro non so dove andava a finire e alla fine ci siamo riusciti buonasera a tutti ringrazio Stefano Ciopatta fra l'altro lavoravamo insieme in questo giornale che si chiamava Il Riformista grazie al quale conobbi Massimo nel 2006 in una delle sue tante sortite elettorali io poi fra l'altro mi occupo di politica interna con grandissimo orgoglio la prima volta che sono stato residente a Roma ho dato la mia preferenza a Massimo Marino che si era candidato alle regionali perché era un voto molto ponderato perché io mi sentivo che Massimo oltre ad essere l'amico che adesso ricorderò l'artista il visionario inarrivabile era una persona che a me personalmente mi rappresentava la cosa incredibile in cui Massimo riusciva era piacere a tutti e poi l'amico per me era la persona che io incontravo alla base a Via Caputo dove per me che pur non più giovane la serata tendeva a finire quella di Massimo cominciava e non posso tenere il conto delle persone venute dalla Calabria Stefano venivano a Roma e che ti potevano dire mi presenti questo volevo conoscere Massimo Marino e mai una volta che Massimo Marino si sia negato c'era solo da pagare quel Dazio alle due a Via Caputo ecco nessuno di quelli muto nessuno di quelli era sprecato a me sembrava uno dei Bruce Brothers cioè perennemente in missione per conto di Dio anche per la macchina con cui si presentava ho detto ma scusa ma con questa un litro lo fai per parcheggiare praticamente aveva questa eppure era la sua cifra stilistica un po' come la macchina di Bruce Brothers era inimmaginabile e fu al di fuori di quel film il suo tratto distintivo più più marcato era la generosità Massimo era una persona di una generosità incredibile che è la generosità che sono non i grandi sono i grandissimi hanno quando l'ho conosciuto lui si era diciamo aveva già attraversato una fase della malattia che fra l'altro era stata di una sfiga incredibile perché lui veniva dal grande successo anche nazionale della grande notte con Simona Ventura e quando era il momento di diciamo di passare all'incasso dal punto di vista della popolarità dei progetti che si potevano fare questa storia della malattia l'aveva un pochino arrestato ma nel modo in cui te lo raccontava non c'era assolutamente come dire il rimpianto la rabbia lo sbattersi la testa contro il muro per l'occasione mancata Massimo guardava sempre al giorno dopo e come tutti i grandissimi non ha mai avuto alcuna ansia che gli venisse riconosciuto questo questo e quest'altro perché ha inventato un sacco della sua presenza sulla scena di questa città che sia artistica cinematografica editoriale è una cosa che comunque ha reso tutto quello che c'era prima di lui comunque diverso da quello che è arrivato dopo è stato un grandissimo è stata una persona a cui io ho voluto e voglio un bene infinito che spero comunque diciamo di riversare adesso nei confronti di Miria sono d'accordo con quello che diceva Luciano e lo dico con grande amarezza un altro Massimo Marino non ci sarà un altro ma non perché non c'era non c'è più quella Roma e per quello che non c'è lui manca la cifra stilistica manca il modo di porsi manca soprattutto la generosità perché guardate di talenti di gente brava di gente che gli vengono 700.000 idee ce ne sono tantissime di gente generosa ce ne sono pochi ce ne sono pochi di gente tutte e due e c'è la massa e mo il nostro secondo me compito collettivo che Miria fa benissimo è portare avanti questo ricordo in maniera tale che comunque tutta questa bellissima vita che comunque lui ha fatto inventando tante cose vada avanti oltre 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 lui perché a questa cosa penso lui avrebbe tenuto non gliene fregava niente magari di incassare un pochino di più in vita ma che si porti avanti un certo discorso secondo me a lui gli avrebbe fatto piacere come gli avrebbe fatto secondo me tantissimo piacere e gli farà se ci vede saperci diciamo qua che parliamo di lui e parliamo bene perché quando parlavi bene di lui a Massimo gli piaceva gli faceva piacere grazie a tutti 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 grazie a tutti